Ho un appuntamento con una tippa troppo bella, la regalo Ma è una dentiera? Ha 80 anni, le piacerà? Ma che schifo E io le piacerò Ma che schifo? Che io schifo Ma certo, guarda la macchia che hai lì Sai cos'è? Che io a livello di lavaggi non mi trovi preparato Lo vedi questo? Era un giubbotto da uomo, filtrito Ma allora recati, alla lavanderia la va bene? E dov'è? In via della pinetta a Cagliari Andiamo? Andiamo Oh, ciao, piacere Gabriello il gigolo Piacere Daniela Ascolta Daniela, ho questa leggera macchiorina che nemmeno me ne ha accorto Puoi fare qualcosa? Ci penso io Ci pensi tu? Mi spoglio? Dopo Presso la lavanderia la va bene Si eseguono lavaggi di qualsiasi indumento con tecniche tradizionali Con massima professionalità e la qualità di un tempo Con ultimo rapporto qualità-prezzo Si eseguono inoltre lavaggio tappeti, piumoni, seggiolini auto, passeggini Nonché pulitura e riverniciatura per ogni tipo di capo in pelle Come giubbotti, scarpe e borse Lavanderia la va bene Via della pinetta 10, Cagliari Adesso va bene la camicia La camicia va bene È quello che c'è dentro che lascia desiderare Lo so, Dani, mi faccio desiderare C'è molto